Aspetta un attimo, aspetta un attimo, ehi ma dite che venite qui scoperti un bacino. Allora potete andare, vai Mela. Va bene, va bene. Anche lui sta vicino. Ma è appena che questo mi sa riadere le botte, perché la notte non dorme e non mi fa dormire manca a me. Non faccio divorzio. Nel 55 che è successo? Nel 55, sono sposata nel 55, nel 54 è stato. Allora ha scritto mio fratello Ottavio, che pare Bruna. Mono Luicio questo, per farti capire, pare Bruna. No, lo puoi dire, perché no? Qual è il problema? Ha scritto, dice, guarda, perché le cognate stavamo molto a roio con i bambini, le moglie dei miei fratelli, no? E hanno fatto le fotografie, le maniere di marito all'Australia. E ci stiamo sempre noi, per mezzo, di Anna, mia sorella. Quando viene all'Aquila, a piedi, dice, vogliamo all'Aquila, se mi fa la fotografia, la mandiamo a Ottavio, la mandiamo a Virginio, con i figli. E allora dice, Ottavio, ha visto la fotografia Zazzà? E gli ha detto, chi è questa? E allora gli ha detto, mio fratello, questa è mia sorella. Ci vuol venire all'Australia? Che ne so, gli ha detto Ottavio. Lui gli ha detto, vuol venire, perché? Uh, subito, l'occhio. Eh, hai detto, venire all'Australia. Zazzà, Ottavio ha risposto, non lo so se vuole venire, non vuole venire. Allora lui mi ha scritto, mio fratello, gli ha detto, va bene, io me ne volevo andare a roio, a me non mi piaceva roio. Mi piaceva più alla masseria Gambagna, Foggia, Foggia, come dice, Foggia, Foggia. Mi piaceva più alla masseria che a roio a me, perché mi sono cresciuta all'aglio, non Gambagna, con le vacche e con le pecore. Allora io volevo all'Australia, mi disse, papà, ma dimmi, ne vai all'Australia. Mamma diceva, e ora devo fare sapere a tuo padre, a Foggia, no? Che dice o non dice. Allora ha scritto a papà, papà gli ha risposto, ha detto, no, no. Dice, questo che sto a fare, un matrimonio di mena, che se facessi i fattisena, la parolaccia brutta. E allora gli disse, gli disse a mamma, se tu fassi un matrimonio, gliene, non rivengo più a roio. Papà ne aveva 70 anni, era vecchio, no? Non voleva più mamma, feceva divorzio con mamma, che se fece il matrimonio. Dice, no, lasciate perdere, che minuccia, minuccia, miglia mia, minuccia se ne ha sposato a roio, che me l'assista a me. Di me ne ha sposato a roio, ma gliene riadisposi, che te ne ha rispettato a zazzagli. Aspetta, fammi capire, tu avevi dei fidanzati? Ma tanti di fidanzati, chi mi vede a me se ne ha molte mena. Una curiosità, prima di lui, prima di lui, tu hai avuto qualche fidanzato ufficiale? No, 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 tutti lontano, no, 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 non voleva nessuno. Quindi non ti sei fidanzata mai, solo con lui? Tutti, dice, tutti amici, tutti fratelli, dice, sono piccola, c'è mia sorella, prima gli stia dei ricordi fa, c'è la sorella prima, dì, non mi posso fidanzare, c'è da sposare la sorella prima. No, no, mai fidanzata, mai innamorata, mai, solamente a fare le feccende e basta. Certo, perché ho visto anche le foto, le stiamo guardando, le tue foto quando eri giovani, bellissima, una bella mora, bella mora. Sì, è una bella mora, guarda che bella moretta, d'onda è uscita, quando andiamo alla messa a Roio, e c'era pure uno cugino di Zazzà, mi dice, oh, sta bella moretta, d'onda è uscita, perché noi arriviamo una volta di un mese qua, di agosto, e a settembre ripartiamo a Foggio, papà mi dice, ah, minù, fa la scatoletta, che ora ripartiamo, ma papà gli dice, mamma rimane a Roia, seminane lo grano, le patate, la vigna, invece papà mi dice, perché affoggio a me? Allora, Mena, adesso cominciamo tutta l'evoluzione, il processo che si è attivato dal momento in cui sei andata a finire in Australia, ma come è partito tutto? Ha partito tutto, e mi ha scritto mio fratello, che un ragazzo era visto in Australia, c'erano quattro fratelli, il primo fratello mi ha scritto, ha detto, qua c'è un ragazzo che ti vuole, vuoi venire all'Australia? Gli dice, sì, 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 venga all'Australia, che a Roia non mi distenga a Roia, e allora si ha scritto, gli ho detto di sì, allora Nazareno ha scritto che se volevamo fidanzare, mese papà non era contento, papà e mamma, gli dice, a te no, non mi venire a sposare, perché già stavano quattro fratelli all'Australia, la femmina non ci tenia ad andare all'Australia. Dopo, siamo moriti a Foggio del settembre, a novembre, mi ricordo sempre, tutti gli santi, gli morti, stavamo agli ufogli, gli e papà seduti la sera vicino al fuoco, papà, gli dice, papà, fammi andare all'Australia, fammi andare all'Australia, no, no, papà, tu non ti da prendi, io fidanzato, entri un sacco, i genuri vecchi, io sai un sacco. Dice, no, no, tu devi scegliere, io fidanzato, perché tu sei brava, ti da scegli a Roia, e no. E cominciò a dire, papà, ti voglio andare all'Australia, allora gli ho rischiato a mio fratello, gli dice, digli al suo ragazzo che mi scrivesse, gli dice venga all'Australia. Tu già eri emozionata? Sì, volevi andare all'Australia. C'era qualcosa che già sentivi nel tuo cuore che sicuramente era la persona giusta? Volei all'Australia perché era un bello ragazzo, gli mandò di sì e se sei momento da scrivere. Quando è stato nel 55 siamo sposati, il 28 di agosto sono sposata con papà, mio fratello mi ha accompagnato alla chiesa. Alla fine tuo padre ha accettato? Papà sì sì, è rimasto lui alla chiesa per il posto del Zazzano. Allora raccontami quel giorno, come è andata, come è stato i preparativi, cioè avete fatto solo il matrimonio così e basta o avete festeggiato al di là che Nazareno non era presente? No, no, tutto. Allora raccontami come è iniziata la giornata. Allora la mattina, prima gli tempi nostri nel 55, cercammo i tavolini, i piatti, le sedie, più sei terzi per fare il pranzo perché erano poche le sedie. Allora, allora io salito in giro per il paese, per il paese, per le parenti, per le sedie e io non ero sposa perché mio fratello era sposato, sposea con me. Mio fratello, Pompeo, ho sposato, siamo sposati in due. Allora dopo sulla campana di San Marciano suonava e è venuta una ragazza vicino a casa e mi ha dato una pettenata, mi ha vestita e siamo venuti alla chiesa, alla sverda. Adesso, questa è la fotografia, voi la vedi, siamo venuti alla chiesa, siamo sposati con papà, sono sposato con papà e Don Emilia ha fatto una bella predica che papà era vecchio, io ero una ragazzina, è compagnia la figliola all'altare, insomma tutta a piagna alla chiesa per me. Ti sei sposata a che età? A San Marciano? No, a che età? A che età? A che età? A vent'anni. A vent'anni. Ha firmato papà che non aveva ventun'anni. E delle parole di Don Emilio? Eh, Don Emilio Comincione che papà era anziano, era accompagnata la figliola all'altaro, insomma Don Emilio fece piagna di tutta la chiesa, Don Emilio fece sempre quello, fece piagna. E siamo fatti i marimoni, poi siamo moriti a casa, siamo pranzati, gli invitati, sì sì, ho venuto pure invitati dai colli, i parenti di Nazareno, i fratelli, i padri, la mamma, la cognata, le gommari, i gombari. Siamo fatti un bello pranzo, poi me si è svestita via a lavorare, a lavare i piatti, a fare tutti i servizi. Nonostante che stavi festeggiando tua madre, ti ha toccato a te. Perché era mio fratello, pure ci stava, allora festeggia più mio fratello, perché tenia la moglie vicino, e gli invece fece più gli lavori con mamma, gli lavori a casa. Questo sarà di agosto, agli 28 di agosto, siamo sposati, di domenica, e sono partita agli 17 di maggio, che hanno appreso, aiutami, il 56. Sono partita all'Australia, con la nave, la Flaminia, se chiamè la nave, la nave piccola piccola, per spiegarti tutto, sono vista pure l'Andrea Doria, come se chiamè Andrea Doria, la scena a pulire la gente, era come Santa Rufina grande, ma la nostra era piccola, una barghetta, la Flaminia, era piccola piccola piccola, no, no, non la Flaminia. Sono andata a Genova, a Bargari, e c'era pure una signora di Roio, c'era un figlio di mia cugina, il figlio di questa signora di Roio, poi c'era la gente di Baganica, di Luccoli, insomma. Sì, comunque, ok, ho capito che c'erano quelli di Luccoli, e comunque ti sei sentita accompagnata da coloro, ma gente, cioè parenti stretti hanno viaggiato, tu in quell'opportunità hai viaggiato da sola? No, no, ci stava una signora, era la sorella di mia cognata, con il figlio di mia cugina, Marcello, se chiamiamo, si è morto, il figlio, eravamo in quattro, di Roio, in quattro. Ma io sono fatto il viaggio, non è che sono andata a ballare, sono andata a guardare i mari, io sono lavorato più di casa, perché c'era una famiglia, una signora, perché ha quattro figli, l'ultimo figlio ne ha due anni, e me ne ha fissuto la più visita, dentro della nave, sono lavata, sono stirata, lavata o no, lavata quella signora, sì, di panni, di quattro figli, ora ferma una, si è dormita al lettino mio, nella cabina, perché a lei era nuata una cabina alla cota, io faceva male a quella signora, alla nave, allora io per terra, i bambini si sono messi un tagliolettino, me, la signora per terra con me, alla cabina, sempre con quella di Roio, però, eh, perché il viaggio, il viaggio è durato quanto? Un mese, un mese, un mese, il 17 di, allora, andava l'Uferra a stirare, aiuta a stirare quella signora, i panni degli bambini, arriva tutti i giovanotti, ah, sta la stiratrice, andiamo, andiamo, gli stiri alle camicie, gli pantaloni, qui i ragazzi, tutti con mena, che fece la stiratrice, ma non lo faccio per andare, però sono stata sempre, come si dice, disponibile con tutti, e tutti mi volevano bene, e dopo siamo fatti un mese al mare, siamo arrivati, non posso arrivare, siamo arrivati a... Il viaggio è andato bene, tutto liscio, non è successo nulla... Era uno di Paganica, che era più anziano di noi, qui io mi guardavo, se qualcuno, l'ha visto i giovanotti, io, eh, more, eh, ti fischiano, ti so, ti parla, quella bella moretta, eh, ti fidanzi con me, come vengono a dire? Qui io dicevo, eh, fermetese, eh, che quella è mia sorella, eh, non mi fece avvicinare a nessuno, Vio Cristiano, era bravo, era bravo Vio Cristiano, non mi voleva bene come mio fratello, però tenia sempre quella di Roio, che era il mio figlio di mia cugina vicino e il mio figlio, no, no, siamo stati sempre uniti, no, mai usciti la sera, la notte, mai, mai, mai... Perché lì, raccontami, sulla nave è un mese, immagino che c'erano diverse attività, anche per intrattenere alla gente, più o meno, quali erano? Lo ballà, lo ballà, gli ucciniamo, ah, solamente me andava con una signora dell'Art Italia, una ragazza come me, sposata per procura, andavamo al prete, alla chiesa, la notte, siamo alla messa, io so sempre con le chiese, ma ballare, andavamo a ballare io e quella di Roio, con i figli, la parente nostra, però oggi che c'erano fuori, perché non balli, allora via, via, ti mandano via, no, se balli ti lasciano, se no ti mandano via. Anche perché era una maniera anche di passare un po' del tempo, perché un mese... E per passare il tempo, giocavano a carti, nella cabina, questi ragazzi nostri di Roio, qui di Paganica, no, no, uno è un bello giovane, un bello ragazzo, era buono buono, carmo carmo, gli parlamo, gli diciamo sempre Cicoria, gli amammo Cicoria, ma un bravo figlio, poi c'erano gli sposati, qui di Lugo l'era sposato, e c'era una bella signora con la figlia, pure alla cabina mia, era pure, di chi lo sa, dell'Art Italia per ora, una bella figlia, e quella figlia era bellissima, era uscita al mio collegio, e andava il mio padre all'Australia, quella era proprio in Genova, peggio di me, era in Genova, quella ragazza, e siamo fatti un bel viaggio, solamente mena, è sempre quella mena, sempre lavenno, stireno, e mi era ingrassata, ingrassata perché la nave non mi fece male a me, e a sto Marcello, il figlio di mia cugina, Marcello è di Roio, la mamma è la cugina carnale a me, e qui mi fece male la nave, a qui i ragazzi, lì andava a Luca Merona, dove c'era il ragazzo, il lavandino, tappato, insomma, i porti a Ipanino, e a Marcello, c'era ben detta, l'animazione, un fratello, Marcello, era per me pure, fino a me, era fratello, Marcello, e poi siamo arrivati, poi li porti. Allora, ricordiamo questo momento, lì sulla nave, vi hanno detto, già stiamo arrivando, e vi hanno avvisato a voi, quindi una mezz'ora prima, un'ora prima, fra un'ora saremo... Sì, sì, la mattina alle quattro. Come è stato quel momento? Quel momento ci hanno chiamato per consegnare i documenti, perché se li ritirano i documenti, li mettono nella cassaforte, non lo so, ah, per danci i documenti per scendere, ci hanno ritratto tutto, e allora mi ha chiamato, a me, sai da là, quella signora d'eroio, con i figli, mi ha riprendito gli ingastamenti, ci hanno ritratto. E allora qui i ragazzi che conoscevamo, gli amici di questi cugini di me, quelli di più, pure lì, era come una sorella, però questi c'erano di più, giochendo a carte insieme, mi dicono qui dei Paganica, dei Paganica, di quei paesetti sotto l'Aquila, e me, 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 all'alioporto, la nave appoggiata agli uoporto già, erano le 4, le 5 la mattina, guarda, c'è stato un fratello agli uoporto. Allora, chi erano coloro che ti aspettavano? Mio fratello, Ottavio, Ottavio mi aspettava, il cugino di, no, no, il cugino di Uoporto, già, mio fratello aspettava, alle 4, alle 5 hanno aperto gli balconi per vedere i parenti sotto, però ancora non apriano la scala per scende. Allora sono andata agli balconi, sono visto mio fratello, Ottavio, e lui mi ha dato, mi ha buttato una bella cioccolata dell'Australia, sopra la cosa. Era extra felice? Eh, lui, lui è stato, mi ha fatto l'Australia. Allora, Nazareno, Nazareno, il mio fidanzato non ci stava, perché dormiva con un ragazzo di una famiglia di Colle, si chiama Matteo, il figlio, il parente di Giampietro, e allora è arrivato, Nazareno è arrivato verso le 7, siamo sbargati, siamo arrivati, siamo scesi le scali, sono salutato mio fratello prima, poi sono salutato Nazareno, e alle 8 siamo presi il treno per andare l'Aide, e allora si è messo seduto mio fratello vicino a me per parlare, per sapere, mamma, papà, di Roio, poi mi è salzato, si è messo Nazareno vicino a me, e siamo arrivati a Del Aide, siamo arrivati a Del Aide, siamo andati alla cassa del mio fratello, e là sono dormito 15 giorni. Allora, un attimino, quando Nazareno si è messo accanto a te, come ti guardava? Eh, non mi guardava, si vergognava. No, no. Ma tu sì, quando l'hai visto? No, 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 ti manco. No, 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 quando tu l'hai visto, cosa hai, subito ti è venuto in mente? No, no, quando l'hai visto, mi piacciono gli occhi celesti, a me piacciono i ragazzi con gli occhi celesti. Quattrano, come si dice? Il quattrano? Il quattrano. Ragazzo con gli occhi celesti, i capelli mossi, era un bello ragazzo, non era brutto. Se siamo salutati, a bella scala, quando gli sono scesa, poi se mi la prendi il treno, siamo andati a Del Aide. A Del Aide io sono andata alla cassa del mio fratello, con mia cognata, e non sono andata subito con mio marito, come se fece nulla, gli altri sposati mi procurano. Perché? Perché doveva sposare, lui aveva preparato la chiesa, aveva preparato il pranzo, mi aveva sposato a Bianca, teniamo a fare la cerimonia, siamo rifatti alla cerimonia. Che bello, che bello. Quindi su questo, avete dovuto aspettare una quindicina di giorni. Non mi ha detto niente, ma dica, c'è oggi? Mi c'è cosa? No, 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 tenami alla chiesa, allora prima ci stia questo. Come si deve? Come si deve, come l'ha fatta la mamma, alla chiesa. Allora, siamo fatti i mobili, gli abiti, insomma, siamo fatti tutti i preparativi, quello che si fa per i matrimoni, le bomboniere. Lui venne, mia cognata ci è messa una stanza a fare le bomboniere, però si è mia cognata alla casa, come te ne ho detto. Che erano le bomboniere? Cioè, cosa avete fatto? I convetti, siamo fatti i nazarelli, con gli utulli, con gli convetti, cinque convetti, facciamo gli utulli a quegli tempi. Sì, era una cosa semplice, però lavorata da voi, bello questo. ci siamo fatti pure le bomboniere. Senti, adesso vedremo un attimino com'è andata la festa, immagino, la cerimonia. però la prima cosa che io ti vorrei domandare prima era l'Australia. L'Australia. Cioè, ti è piaciuta? Cosa hai trovato di nuovo? Tutto di nuovo. Tutto di nuovo. Allora siamo andata all'Australia. Eri felice anche di questo? Sì, sì, perché ci hanno quattro fratelli, due cognate, i bambini erano cresciuti a roio con me pure, i nipoti, eravamo tutta una famiglia. Allora, siamo fatti il matrimonio, alle cinque la sera siamo venuti alla chiesa, a sposarli. Un sacerdote italiano? Sì, sì, e mi disse, cara signorina, italiano, mi disse, cara sposetta, mi disse, cara sposetta, qua è un altro mondo, all'Italia si camminava con i piedi per terra e con la testa per l'aria, mi chiamo alla rojana. Invece qua si camminava con la testa per terra e con i piedi per l'aria. Sono indovinato a dire. Qua si camminava con i piedi per terra e con la testa così dritta. Invece qua, all'Australia, quindi io gli dice, trovi tutto cambiato, Certo. Tutto, speciale la lingua che parli la lingua. Ci fece una bella predica, mi ha rimesso la fede, già già solamente firmato, no? Perché eravamo già firmato, già già era firmato all'Australia, e gli sono firmato a Don Emilio. Agli comuni, siamo sposati, agli comuni e agli municipi, me lo ricordo. E finalmente marito e mogli. E mogli, siamo sposati. Poi siamo andati agli fotografi, siamo andati agli fotografi, solamente a mio fratello, questo Ottavio, due cognati, fissero incidenti, con la motocicletta. Quel giorno? Quella sera e non ci sta la fotografia, né Ottavio né Filomena, la mamma di Roma. Non si sono fatti male? No, no, sono stati bene, non si fanno roba di... però... hanno quattro strade, che stanno toccate, non è un incidente che... Allora, mio fratello e mia cognata hanno scappato all'ospedale, ho ido all'ospedale, allora a me, non sono potuti fare una fotografia con me, Ottavio e Filomena, non ci stanno le fotografie, perché sono all'ospedale. Poi ho venuto a pranzo, ha detto che gli fratelli stanno bene, e un bello matrimonio, 300, quante persone? Sì, Quante persone? 350 o 250? La gente? Invitati? Invitati. 350 invitati. Quindi erano tutti gli migranti che stavano... Tutti, Sormundini, Calabresi... Cioè, anche quelli che tu hai conosciuto lì sulla nave, magari le... No, no, quelli no, perché hanno sceso a... Prima di me, hanno sceso... No, dopo di me, a Sidene. Avevano un'altra destinata. Ti sono lasciati alla nave, ti sono lasciati. Pure quella signora con i quattro bambini, quella mi diceva, la prima bambina tenia 12 anni, diceva, tu sei la comare di mia figlia, e tenia crescere la figlia, senza, a quegli tempi non pensavi ai telefoni, non ci stavano, gli indirizzi, per di tutto, perché era ragazza, una valla Australia, boh, non lo so, me la so persa quella bella signora. Non siamo scambiati gli indirizzi, mi sei capito? Quella andava a Sidene, quella signora, per carità, era una sorella per me. Allora, siete andati al pranzo con questi 350 invitati, come è andata la festa? Siamo fatte le fotografie, tutto a posto, possiamo dargli il pranzo, siamo salutati tutti, ci hanno fatto il regalo, tutti gli sordi, i sordi, pure i regali, ma più le buste ci hanno date. E gli siamo salutati, ci siamo messi a sedere con le amicelle, con i compari, i compari di Dante, i compari di Fede, sarebbe il padre di Giambattista, di Roio, qui mi è cugina a me, di Roio Piano, di Giambattista, i padri, mi ha fatto il padre di Fede a me. La gommare era una sormondina, e qui erano i damicelli, i damicelli, stanno tanti damicelli, i damicelli, e siamo fatti un bel pranzo, siamo all'idù, siamo rientrati a casa, siamo rientrati a casa, e se, che vuoi, gli ho vestito bianco, perché era il vestito bianco, ma era pure stanga, con le scarpe, tutto, e ho arrivato i tiroiani, Zazzà, no, Zazzà sì, Nazzareno, Nazzareno, vieni a pia la birra, vieni a pia la be, io vorrei a Nazzareno, tutta la notte in giro, dall'idù fino alla mattina, portare la birra qui di Roio, che gli viene una busta alla porta, mi si capito, faccia, non c'è pia la birra, adesso, e siamo gli dati a un letto, insieme, tutti e due, grazie a Dio, non siamo mai litigati, e siamo i davanti, poi dopo un anno, siamo sposati, agli 30 di giugno, e, in modo nostro, questo è l'incarizzo, ma no, agli 30 di giugno, siamo sposati, agli 23 luglio, siamo i fratelli di Nazzareno, alla nave, e allora è andato tutto sotto sopra, quindi, non si capito, non li litigati, era tutta la casa a buia, non c'è più la contentezza, io a lavorare, non ci sono andata tanto a lavorare, sono lavorato poco, all'ospedale degli anziani, di un pari anni, perché lui non mi ci mandava a lavorare, ci aveva 4-5 persone di Roio, questi che tenono la moglie qua all'Italia, venivano, gli fece la polizia, da mangiare, a dormire a casa nostra, che in Nazzareno si è comprata la casa, insieme con mia cugina, sarebbe l'anzia pure di Giampietro, che se avessi il fratelli di mio padre, mia cugina, si è sposato il fratelli di mio padre, e teniamo la casa insieme, e allora andammo là, dicevano i portanti, siano gli uomini che non tenero nessuno, dorme, andammo le stanze, era una casa grande, gli fece da mangiare, gli mette le pezze di pantaloni, gli fece gli letti, e non mi feceva lavorare a Nazzareno a me. Allora, uno degli ostacoli che sicuramente hai trovato è stata la lingua, la lingua inglese, e ogni tanto, sicuramente come qua, ti ha toccato andare al mercato, di qua e di là, come ti, hai risolto diciamo la situazione. E col dito, dici quello, 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 piano piano, potrei cominciare a parlare che parola. E certo, anche gli australiani erano già abituati a vedere tanti italiani, e quindi capivano un po' questo linguaggio. Con i soldi, magari la moneta, non è che sapevi che i cellini, a quegli tempi c'era la sterlina, quegli tempi nostri. Allora gli prendia la sterlina, e ce la mettia su più il banco, lui prendia i soldi, di merito e lo resto, giusti ha. Però, per omena, immagino, perché poi, giustamente, quando uno si trova in una nazione che non è la nostra, non è la lingua, eccetera, però o impari o morì di fame. Quindi qualcosa hai imparato. Sì. Per esempio? Agli bucce, agli macello, agli bucce, te metti agli bucce. E gli c'i la carne, quello che vuoi lì, la carne. Ma la parola è in inglese? Te la ricordi? La carne, le cioppese, qui c'erano le cioppese, la carne macinata, non mi ricordo come si chiama mia, ma non la dobbiamo tanto. Per esempio, latte? Le miucche, miucche lo latte, più caffè, coffee, poi veniva uno con il camion ci portava la spesa, uno di Solmona, era il fratello della gommare di Fede e qui portava la spesa a tutti gli italiani, ci portava la farina, l'ova. Farina per esempio? Per il pane, per fare i p... gli fece pure il pane là. Farina in inglese? Flou, flou, flou. Flea. Flea, flea. Ok, vediamo un po' di alcune parole, per esempio, un buongiorno. Cutimoni. Una buonasera. Good night. A Bayou. Poi ci stava, poi siamo stati abitati nella casa con mia cugina, c'è nato Razio, era a Norwood, via... Come c'era la via nostra? Com'era via? Eh, non ne ricordo. La via, era vicina... Via in inglese come si dice? Via? Via. Street. Brava. Street... Street... Numero... 46 mi pare, 46 era il numero nostro. Ah, a Norwood. Siamo stati a Norwood, a Bida, fino a quando è nato Razio. Numero 9. Numero 9, no. Sì, sì. Numero 9. Boh, mio marito dice numero 9. Era Queen Street, Queen Street, Norwood. a Norwood c'erano i shoppi, i negozi, shoppi, c'è un municipio, c'è un bello reloggio, un bello reloggio alto, no, era bello, a Norwood c'erano una mezza cittadella, c'erano noi. e poi siamo venduti a quella di casa, Marina è nata a Claudi Street, 15 in donne, nata nella zona Marina, nel 63. Nel 57, Orazio è nata a Norwood, invece Marina a 15 in donne, nel 63, siamo stati a 15 in donne, ma è nata Marina. Avete vissuto là per quanti anni? Io 9 anni, prima 9 anni, poi 12 anni che sono stata, io all'Australia. E poi avete deciso di ritornare? Di ritornare, perché io con l'azzolo, io mi all'Italia, ma adesso siamo venuti all'Italia. A me mi piaceva di rinunere all'Italia, perché Oratio li ha studiare, non mi piaceva, tenere a fare la vita nostra, non un lavoratore, mi piaceva. E siamo venuti all'Italia nel 60, quando siamo venuti all'Italia nel 68. Eh? 68. Sono ritrovata mamma, papà. Aspetta, 68 o 78? 68. 68. 68. Va bene il Nazareno? 68. 68. 68, sì, stia mamma, papà, la mamma, la società, il papà di Nazareno, e mi voleva andando bene la mamma, per carità. La mamma mi voleva benissimo, pure il padre mi voleva bene il Nazareno. Da quella data del vostro matrimonio in Australia, già quanti anni sono passati? Quanti anni sono? Oratio è di 57, e quant'anni è? Oratio è di 64, quant'anni è Oratio? 64, di 57. 66, 66, 67, 68 anni, 68 anni. Insieme? Insieme. Beh, sarebbe bello sentire a Nazareno, per vedere cosa pensa lui da quel giorno, che vi siete incontrati, vi siete sposati, e avete condiviso tanti, però tanti anni insieme. buoni e cattivi, e c'è a Don Emilio, non si sposate, se la sposetta, ricordate che è tutte rose, alle rose stanno pure i spini, e c'è a Don Emilio, e stanno pure i spini, perché non è sempre bassi e carezzi, stanno pure i dispiaceri, e così, quando stiamo con il marito, ci sono sempre le ghiacce, già che stiamo parlando di Don Emilio, io, una delle cose che tu mi hai detto, da quando io sono arrivato qua, che Don Emilio aveva un modo di chiamarti, come ti chiamava? L'Africana. E perché? Perché stava sempre davanti, l'Africana, l'Africana, salga all'aldaro, metti i fiori in là, l'Africana, ecco le chiave, va a pulire casa, l'Africana, giù l'accesa, ti portami le chiave, sempre africana, quello poco che stia qua, poi dopo sposata, magari sono state di più, nel tempo della guerra, siamo stati quattro anni, senza i genitori, non qua, con la cognata, sarebbe sempre la sorella di quella che siamo partiti in Australia, Linda, se chiamava Linda, e la moglie di mio fratello del 15, ha sposato mio fratello, se n'è andato alla guerra, 13 giorni sposato, e ha lasciato la moglie, e mamma ci ha lasciato i quattro figli, Fausto 12 anni, Anna 10, Mena 9, Augusto 7, giù l'ultimo, qui sta all'Australia, ancora è vivo Augusto, nel 37, siamo fatti pure la guerra, i tedeschi, sempre in braccio, mi prendevano a me, perché ci stava un signore, De Rojo, che parlia a tedeschi, gli disse, qui ci sono senza mamma, e senza padre, questi quattro figli, al portone De Rojo, agli portoni, e allora i tedeschi ci davano tanta roba, non ci volevano bene, perché stavamo senza mamma e senza padre, eravamo quattro figli, e le siamo passate di tutte le maniere. Allora, Mena, io sentendo questo bellissimo racconto, vedo la freschezza, vedo la genuità, vedo la bellezza, un amore così semplice, a volte, che se le presentano degli ostacoli, ma che le avete vinto, perché vinceva sempre la voglia, della sincerità, di vivere nell'amore, anche, ripeto, nella semplicità, nell'umiltà. Oggi, cosa tu diresti alle coppie che si presentano davanti all'altare, davanti a Dio? Oggi, mandale un messaggio oggi, perché siamo in un periodo anche di matrimoni, dove si presentano, questo, tu lo sai, nel mese di maggio, giugno, luglio, sono i messi dei matrimoni, cosa le dici tu a loro? E gli dico che ci vuole la pacienza da perdonare, è un giorno bello con il marito, è un giorno se gli sta un po' di odio, ma uno se si fa bene, l'odio non ci dà stare, moglie e marito. Io non ho avuto mai l'odio con Nazareno, mai, mai, mai. Ci sono sempre perdonato, ma però non hanno fatto mai una cosa cattiva. No, no, il lavoro, la casa, è stato un grande lavoratore, non è che è stato cattivo, giocatore, questo, questo, uno ci fa pure la, oddio, uno adesso è pure attaccato alla famiglia, alla casa, con amore lo da fare, dici, muore per il mio marito, fammi farlo mangiare, non è che dici, ma che fai, ma chi entra e fanno da mangiare, no, si ha più rispetto al marito, a preparargli la tavola, gli piatti davanti, a cambiargli il piatto, mettigli un secondo, a Pasqua a fargli la ricetta antica, la ricetta, le pizze le fanno, le pizze dolci le fanno, gli piace, gli piace delle pizze dolci, gli piace del beve, a queste de mo, lo beve la donna, non da beve, non si capisce, no, 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 quando la donna beve, a rivedere, mamma dice, la femmina, quando è bene, non è più buona, non da beve la donna, normale, uno si gli dà un cucito, e fumare? no, 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 a casa mia non ci ha usato, assolutamente, ma manco i fratelli, a me, qualcuno non ha fumato, bottaglio, che sigaretta, non erano tanto fumatori, noi giocatori, la famiglia nostra è cresciuta, sei un nonno di Fausto, te lo poteva dire, la famiglia nostra, era come la famiglia di questi, mamma si voleva tanto bene, ha lattato pure gli uzzini di questo, mamma, Ercole, mi chiamava con mio fratello, gli dava il latte, gli dava mamma, si voleva sempre bene, con la famiglia di Paglia, noi, benissimo, famiglie serie, famiglie posate, no, 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 allora Mena, questo video sicuramente, lo stanno guardando anche dall'Australia, e li farà tanto piacere, perché giustamente, loro si trovano in quell'Australia, che tu sei arrivata, che tu ti sei sposata, che tu hai celebrato, che hai concepito due figli, e quindi sei orgogliosa anche, che la parte della tua vita, tu l'avi vissuta, dall'altra parte del mondo, allora mandiamo un messaggio, mandiamo un messaggio, a tutti coloro che ci guardano dall'Australia, qui li manda di, qui li taglia di, tu guarda un po', dimmi qui li taglia di, e quello che tu guarda, ma gli parenti, sì, ecco, sono Mena, mi riconoscete, sì, e dimmi, hanno tanti belli saluti, auguri a tutti quanti, stete tranquilli, stete, volete ser bene tutti quanti, tutti i nipoti, siete tanti dei nipoti, se stavamo bene, rivenammo all'Australia, ma ora siamo vecchi, che veniamo più all'Australia, adesso, qui li taglia di, volete ser bene, quella è la prima cosa, stete attendo, e rivenete all'Italia, la casa è aperta, zia Mena, gli fa le fittuccine, come lo dicete, zia Mena, gli fa da mangiare, quello che volete, ricordate se di zia Mena, tutti quanti, rivenete a zia Mena, prima che si muore, che la casa è aperta, di tutti i nipoti, di tutti quanti, ma buona, la saluto a tutti, chi domanda di Mena, mi conosce tutta dell'Aidami, tutta l'Australia, mi conosce, ciao, rivenete all'Italia, che l'Italia è bella, alla view. Grazie a tutti. Grazie a tutti.